... tramite web tv della Camera. Abbiamo un'audizione in replica del Ministro Alfano, che ringraziamo, è venuto a rispondere alle nostre domande che abbiamo posto in data 22 ottobre. Con l'occasione saluto l'Onorevole Gadda, che è in sostituzione dell'Onorevole Braga. Benvenuta, contenti di averla tra noi. Ministro, grazie di essere tornato presso il Comitato. Spero che gli uffici abbiano inoltrato una sintesi delle domande poste nell'ultima seduta. Naturalmente ad alcune domande lei ha dato già delle risposte di fatto, perché per esempio molte erano incentrate sulla chiusura dell'operazione Mare Nostrum. Lei è intervenuto nel Consiglio dei Ministri. Quindi di fatto rimarrebbero delle domande che sono relative più all'operatività dell'operazione Triton rispetto dell'Emilia. Ci sono delle domande specifiche da parte del collega Arrigoni sui minori non accompagnati e in particolare sull'ambasciatore che chiedeva dei chiarimenti, in relazione alle dichiarazioni dell'ambasciatore Ann Elmi, che chiedeva chiarimenti sul comportamento dell'Italia, posto che apparentemente altri paesi dell'Europa per tali soggetti consentivano di fatto il rimpatrio. Il senatore Mazzoni che le chiedeva dei 140.000 clandestini salvati da Mare Nostrum, quanti di fatto avevano poi avuto diritto a richiedere asilo. Il collega Artini che le chiedeva dei chiarimenti sullo stanziamento di risorse su Triton perché sembravano modesse. Il collega Frusone che purtroppo è assente, che chiedeva specificamente dei suoi commenti sugli afflussi che arrivano dalla Siria, con particolare riferimento al rischio terrorismo e chiedeva dei suoi commenti sui foreign finders e anche sulla questione del PNR e sui database e comunque il coordinamento della gestione dei dati in relazione a questi soggetti a livello europeo. Il collega Brandolin specificamente le chiedeva dei chiarimenti sul piano di accoglienza perché parrebbe che alcune regioni, lui si riferiva in particolare a Venezia Giulia, al Veneto, per problemi di copertura siano di fatto bloccati e ha magari anche un suo commento su quella che è l'immigrazione di ritorno. Per ciò che riguarda tutte le questioni dello screening sanitario, lei ci ha suggerito di ascoltare il ministro Lorenzi, noi l'abbiamo fatto e il ministro è stato molto esaustivo e chiarimenti li ha già dati lei. Oggi, ministro, un elemento in più di cui vorremmo un suo commento se possibile e che naturalmente non era emerso nella seduta del 22 ottobre era questa questione che ci pare risultare dalle agenzie di una, chiamiamola con un eufemismo, competizione tra la Marina e parrebbe addirittura lo stesso Viminale in relazione alla gestione o comunque al comando di Triton. Abbiamo letto delle dichiarazioni secondo cui la Marina militare chiederebbe di fatto di avere attribuito il comando dell'operazione e parrebbe esserci stata una risposta europea per cui trattandosi in realtà di una operazione che dovrebbe essere gestita dalle forze di polizia, questo non sarebbe possibile. Se lei può dare un commento su questo. Grazie, do la parola al ministro. Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevoli deputati, ritorno davanti a questa commissione a distanza di un mese circa per rispondere ai quesiti posti nell'audizione del 22 ottobre scorso sui quali ho acquisito specifici elementi di riscontro e svolto gli opportuni approfondimenti. Risponderò alle singole domande raggruppandole per omogeneità di argomento. Inizio con quelle relative alle operazioni Tritone e Mare Nostrum. In risposta all'onorevole Artini del Movimento 5 Stelle confermo che Tritone si dispiega nel Mediterraneo centrale e nello Ionio. La sua area operativa è piuttosto vasta e oltre al canale di Sicilia comprende nel quadrante est la parte ionica della Calabria estendendosi parzialmente anche alla Puglia mentre nel settore ovest abbraccia la Sardegna meridionale. La linea di pattugliamento si attesta per gli assetti marittimi a circa 30-40 miglia dalle isole di Lampedusa e Malta e il dispositivo aereo invece si spinge sino al limite dell'intera area operativa. Rispondendo alle specifiche domande del senatore Arrigoni e di nuovo dell'onorevole Artini fornisco ulteriori ragguagli sull'operazione. Gli assetti aeronavali schierati e gli esperti impiegati nei team di supporto appartengono a 19 stati membri, inclusa l'Italia, il che rappresenta un vero e proprio record di impegno europeo. Otto stati hanno messo a disposizione un numero complessivo di tre aerei, un elicottero, tre pattugliatori d'altura e tre pattugliatori costieri. Il nostro Paese ha messo a disposizione un aereo della Guardia di Finanza, un pattugliatore d'altura della Marina Militare con elicottero a bordo e due pattugliatori costieri rispettivamente della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza. Nell'ambito delle disponibilità complessive offerte dagli stati, la scelta degli assetti aeronavali da impiegare è stata demandata a Frontex, le cui determinazioni operative rimangono ovviamente vincolate al budget a disposizione, cioè 3 milioni di euro mensili europei. In questa fase iniziale il dispositivo di Tritone vede schierati a largo delle coste italiane in Maltesi due aerei, due elicotteri, due pattugliatori d'altura e quattro pattugliatori costieri. Gli assetti forniti da Malta in particolare provvedono anche alla distruzione delle imbarcazioni lasciate alla deriva dopo il salvataggio dei migranti, che oltre a costituire un rischio per la navigazione potrebbero essere recuperate dalle stesse organizzazioni criminali e riutilizzate per successivi viaggi. A supporto dell'attività di pattugliamento vengono impiegati 5 Joint and Briefing Team per lo svolgimento delle interviste ai migranti sui luoghi di sbarco e due screening team per i primi accertamenti sulla nazionalità dei migranti. Per la costituzione di tali team hanno dato la loro disponibilità di inviare ai propri esperti i seguenti stati Austria, Belgio, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Svezia, Svizzera, Spagna e anche il Regno Unito. I team guidati da un funzionario della Polizia di Stato e integrati da due esperti per le interviste e un mediatore culturale sono dislocati a Mineo, Ragusa, Siracusa, Trapani e Crotone. Con l'avvio di Tritone, e qui rispondo al senatore Mazzoni, l'operazione Mare Nostrum andrà rapidamente alla dismissione. Vi sarà un periodo di coesistenza tra le due operazioni, ma limitato alla sola fase di avvio di Tritone. In sostanza contiamo di definire tutta l'operazione di phasing out entro l'anno, ma di già l'operazione Mare Nostrum, per come è stata concepita e conosciuta, non c'è più dal primo novembre. Riscontrando le ulteriori domande dei senatori Arrigoni e Mazzoni e dell'onorevole Artini, informo che per il residuo periodo di sopravvivenza dell'operazione che era partita come Mare Nostrum, il dispositivo navale impiegato è diminuito di due terzi ed è costituito da una nave di grandi dimensioni e tre pattugliatori della Marina Militare che si muovono in un'area operativa pari a circa la metà di quella precedente. Corrispondentemente anche i costi a carico del nostro bilancio si sono ridotti di due terzi, calando da 9 milioni e 300 mila euro a circa 3 milioni di euro mensile per questi due mesi. Al momento, in rispondo al senatore Arrigoni, il bilancio dell'operazione Mare Nostrum può essere così riassunto. I migranti soccorsi nell'ambito dei 563 interventi sono stati senza circa 101 mila, di cui 12 mila minori non accompagnati, sono stati rinvenuti 499 cadaveri, mentre i dispersi sulla base della testimonianza dei sopravvissuti potrebbero essere più di 1800. Sono stati arrestati 728 scafisti e sequestrate 8 imbarcazioni. Il riferimento agli scafisti e alle imbarcazioni sequestrate mi offre l'occasione per rispondere alla domanda dell'onorevole Artini, che chiede di sapere, tenuto conto che Tritone avrà un raggio d'azione diverso e più contenuto, come potrà proseguire con gli stessi esiti positivi l'attività di contrasto al traffico di clandestini e alle relative filiere criminali. Al riguardo desidero chiarire che è stato possibile realizzare tale attività di contrasto anche grazie al dispositivo informativo e investigativo che ha visto nell'ambito del progetto Mediterraneo il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, cioè lo SCO, coordinare le squadre mobili delle questure maggiormente interessate agli sbarchi. Appositi gruppi di lavoro costituiti presso tali questure hanno operato per la ricostruzione delle dinamiche criminali e della struttura organizzativa dei sodalizi malavitosi che hanno appunto connotato transnazionale coinvolti nel traffico dei migranti. In tale ambito sono stati attivati come di consueto anche canali di cooperazione internazionale di polizia, nonché richieste di assistenza giudiziaria e rogatoriale. La mia risposta all'onorevole Artini sul punto è che questa attività non subirà alcuna interruzione e proseguirà essendo appunto concepita in maniera autonoma rispetto a Mare Nostrum e a Tritone. Sugli obiettivi e le regole di ingaggio di Tritone, comprese quelle relative ad eventuali operazioni di soccorso dei migranti, penso di essermi soffermato con dovizia di argomentazioni nell'audizione del 22 ottobre. Per cui torno brevemente su tali temi per rispondere a una specifica sollecitazione del senatore Arrigoni che mi ha chiesto come si comporteranno le navi di Tritone di fronte a un SOS proveniente da un natante con a bordo dei migranti posizionato oltre la linea delle 30 miglia. Confermo che in netta discontinuità con Mare Nostrum e Tritone è una missione di sorveglianza delle frontiere marittime esterne dell'Unione Europea, finalizzata a contrastare l'immigrazione irregolare e le attività dei trafficanti di esseri umani. E tuttavia è anche vero che le navi di Tritone, qualora intercettino o abbiano notizie di persone in pericolo l'obbligo di soccorrerle. Non possono esimersi dal farlo perché questo chiedono le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute e i principi comunitari. Va da sé che, essendo in gioco infrangenti del genere i diritti fondamentali della persona, non vi è linea di pattugliamento che tenga. Soggiungo che tale impostazione trova puntuale riscontro in un provvedimento comunitario, e cioè il Regolamento 656 del 2014, dedicato specificamente alle operazioni di sorveglianza delle frontiere marittime esterne. In relazione al quesito dell'Onorevole Artini, relativo alla missione di vigilanza e pesca, non posso assicurare che il Ministero della Difesa continuerà a garantire il dispositivo di vigilanza pesca con un'apposita unità dedicata. Preciso che l'unità navale della Marina Militare, che svolge tale specifica missione, non è integrata negli assetti del dispositivo aereo navale di Tritone, pur concorrendo anch'essa alla sorveglianza marittima attraverso la localizzazione, identificazione e tracciamento dei natanti sospettati di traffico di migranti via mare. Rispondo ora a requisiti relativi al tema dell'accoglienza dei migranti. Il senatore Arrigoni ha chiesto in quale paese saranno ospitate e accolte le persone soccorse da Tritone. Come avevo già chiarito nell'informativo urgente resa alle Camere il 16 ottobre scorso e nell'audizione precedente presso questo comitato, Tritone non ha inciso in alcun modo, né avrebbe potuto ovviamente sulla questione dell'accoglienza dei migranti. Questione che rimane disciplinata dal regolamento di Dublino secondo il principio dello Stato di primo ingresso che, come è noto, penalizza il nostro Paese. Vorrei però rassicurare, approfittando di questa occasione, circa una nostra ventilata, appaventata, ipotizzata acquiescenza che agevolerebbe consistenti rientri stranieri, provenienti in particolare dall'Austria, sulla base della semplice dichiarazione di essere entrati in Europa attraverso la frontiera esterna dell'Italia. Ovviamente non è così. Il rientro dello straniero, richiedente asilo o meno, è il risultato di accertamenti e verifiche che seguono alla domanda di riammissione o di ripresa in carico. E sono accertamenti e verifiche condotti congiuntamente dalle nostre autorità e da quelle omologhe dello Stato richiedente. Certamente è un fatto che l'intensificazione dei flussi migratori ha avuto ricadute anche sul fenomeno dei rientri degli stranieri rintracciati in altri paesi dell'Unione Europea, ed è altrettanto incontestabile che questo fenomeno ha conosciuto picchi alquanto elevati in quest'anno proprio nei confronti di alcuni Stati del centro Europa, tra quali è compresa l'Austria. Conclusa questa breve digressione, torno sul regolamento di Dublino per sottolineare anche i nostri sforzi per ottenerne un'applicazione flessibile in favore dei minori e in favore dei ricongiungimenti familiari. Su un piano diverso ma complementare segnalo le nostre proposte avanzate durante il semestre di Presidenza, intese a promuovere il mutuo riconoscimento delle decisioni di asilo. Le abbiamo ripresentate anche ieri nel corso della conferenza internazionale sulla gestione dei flussi d'asilo organizzata a Roma dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione. Stiamo valutando anche la praticabilità di un'altra soluzione che operi secondo il diverso principio di anticipare la decisione sulla domanda di protezione internazionale, affidandone l'esame ad avamposti dell'Unione Europea costituiti nei paesi di transito dei migranti. Potrebbero questi stessi organismi, in cooperazione con l'ACNUR e l'Organizzazione Internazionale dei Migranti, decidere, secondo preventivi accordi tra gli Stati membri, anche la destinazione del migrante, ciò che potrebbe portare alla drastica flessione di massicci ed indiscriminati esodi verso il nostro Paese. E' questo il nuovo obiettivo che ci stiamo dando e questa è la nuova priorità. La priorità era definire il tempo di Mare Nostrum, lo abbiamo fatto, era convincere l'Europa attraverso una missione di Frontex che quello era un impegno, che quello fosse un impegno europeo e ci siamo riusciti. Il nuovo obiettivo è esattamente quello di affidare l'esame delle domande d'asilo di protezione internazionale ad avamposti dell'Unione Europea lì in Africa, cooperati dalle organizzazioni umanitarie internazionali per fare sì che lì avvenga lo screening dei migranti tra quelli che hanno diritto al riconoscimento della protezione internazionale e quelli che non lo hanno. Questo fa sì che si possa puntare al resettlement, cioè si possa puntare all'obiettivo di una equa distribuzione dei migranti che chiedono asilo e lo ottengono direttamente lì nelle coste settentrionali dell'Africa, un'equa distribuzione tra i paesi europei perché oggi è evidente che sono solo 5 o 6 i paesi dell'Unione Europea che si fanno per intero carico dell'intera vicenda della migrazione. E allora il punto del resettlement affronta l'essenza e cioè l'equità della distribuzione tra i paesi europei. Non solo, ma anche si otterrebbe un altro grande risultato, cioè si sottrarrebbe il flusso dei migranti aventi diritto alla protezione umanitaria, all'asilo, allo status di rifugiato, a quella macabra agenzia, la più macabra agenzia di viaggi del mondo che fa pagare loro un biglietto per questa traversata del Mediterraneo. In quel caso, se il nostro secondo obiettivo fosse centrato come è stato centrato il primo, così non sarebbe più. Torno al tema dell'accoglienza e rispondo alle domande degli onorevoli Artini Brandolin e del senatore Arrigoni. I primi due hanno richiamato l'attenzione sul piano di distribuzione dei migranti sul territorio nazionale, soffermandosi in particolare su alcune difficoltà operative e di copertura finanziaria che si starebbero verificando nel sistema di accoglienza. Non escludo che nella gestione di un flusso migratorio così massiccio vi siano state e si siano verificate delle criticità. Inviterei però a riflettere su un aspetto che ritengo di fondamentale importanza e cioè che stiamo completando un'incisiva riforma di tutto il sistema dell'accoglienza che vede il coinvolgimento del mondo delle autonomie territoriali come elemento strutturale del nuovo sistema, non emergenziale, ma un elemento strutturale con il coinvolgimento delle autonomie locali. Così facendo siamo riusciti a gestire con strumenti ordinari una emergenza di gran lunga superiore a quella del periodo della primavera araba del 2011 fronteggiata come voi ricorderete e come io ricordo in prima persona con gli strumenti extra ordinem propri della protezione civile. Stiamo portando avanti tutto ciò attraverso azioni che sono in linea con le politiche europee e rispettose dei principi universali di tutela della persona sanciti dalle convenzioni internazionali siglate dall'Italia. E siamo ancora impegnati con decisione su questo fronte come dimostrano le risorse aggiuntive stanziate per l'anno in corso e quelle previste dal disegno di legge di stabilità. Certamente un'equilibrata distribuzione dei migranti, come sottolinea l'onorevole Artini, resta una priorità che continueremo ad affrontare in maniera condivisa con il sistema delle autonomie locali, evitando sperequate ripartizioni che possano finire col gravare eccessivamente su alcuni territori ed inasprirne in questo modo criticità e tensioni. Concludo sul tema dell'accoglienza rispondendo al senatore Arrigoni che ha chiesto di conoscere la capienza attuale dello Sprar e se le relative strutture saranno destinate ad ospitare anche i minori stranieri non accompagnati. Ricordo che lo Sprar è stato più volte ampliato di recente, sempre sotto la mia direzione del Viminale, e ha raggiunto la capienza di 20.975 posti su tutto il territorio nazionale, di cui 883 destinati proprio ai minori stranieri non accompagnati siano o meno richiedenti asilo. In relazione ad una specifica domanda del senatore Mazzoni fornisco ora alcuni dati relativi alle dimensioni del fenomeno migratorio. Premetto che i dati sui richiedenti la protezione internazionale sono aggregati per cui non è possibile enucleare, come forse sembrava sottendere la domanda collega Mazzoni, il numero preciso dei richiedenti soccorsi dei mezzi di Mare Nostrum. Posso dire che le richieste di protezione internazionale dall'inizio dell'anno sono state 56.485. Sono state esaminate nell'anno in corso 31.185 stanze con il seguente esito. 3.339 concessioni dello status di rifugiato, equivalenti all'11%. 6.944 concessioni dello status di protezione sussidiaria, corrispondenti al 22%. 8.701 trasmissione degli atti al questore per il rilascio del permesso umanitario, equivalenti al 28%. 11.196 di nieghi di protezione internazionale, e cioè il 36%. E poi 985 casi di irreperibilità. Aggiungo che secondo i dati disponibili, dal mese ottobre del 2013, al primo ottobre di questo anno, gli stranieri fotosegnalati dalla polizia scientifica sono stati 98.202. Anche in questo caso si tratta di un dato aggregato che non è soltanto riferibile ai migranti venuti in Italia con Mare Nostrum. Vorrei sottolinearlo questo dato, cioè quando io vi dico 98.202 fotosegnalati non coincidono tutti sbarcati con Mare Nostrum. Come ho riferito la scorsa volta si sta inoltre lavorando per attenuare senza sensibilmente le criticità che si registrano nelle attività di identificazione. L'onorevole Brandolin ha chiesto notizie sul potenziamento della rete delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, con particolare riferimento a quelle da istituire nel Triveneto. Informo che nei giorni scorsi ho firmato il decreto che attualmente è alla registrazione presso la Corte dei Conti, che dispone il raddoppio sia delle commissioni che delle relative sezioni, portando nel numero complessivo da 20 a 40. Ribadisco ciò che se non ricordo male ho già detto proprio in questo comitato che il tutto serve ad accelerare la risposta. Sono richiedenti e noi siamo i rispondenti come Stato. Più veloce sarà la risposta, minore sarà il tempo d'attesa e più rapido sarà il destino di queste persone. Chi merita l'asilo, la protezione internazionale e altro rimarrà qui, chi non ha diritto sarà rimpatriata regolarmente. Prima facciamo e meglio è. Aggiungo pure che oltre ad avere aumentato il numero delle commissioni abbiamo semplificato la procedura. Prima c'era un schema che prevedeva che la commissione nel suo insieme dovesse esaminare la domanda, adesso si può fare anche one to one. In questo ambito è stata istituita la commissione territoriale di Verona, che è quella competente a conoscere delle domande presentate nei territori del Veneto e del Trentino Alto Adige e la sezione di Padova con competenza primaria nelle province di Padova, Venezia e Rovigo. La commissione di Gorizia pertanto rimarrà competente per le sole domande presentate in Friuli Venezia Giulia. A proposito delle commissioni territoriali vorrei fugare i dubbi che sono stati affacciati su una presunta mancanza di copertura di risorse che comprometterebbe la loro continuità operativa nei prossimi anni e in effetti il decreto legge 119 del 2014 che ne ha appunto incrementato il numero ha correttamente assicurato la copertura finanziaria per il funzionamento di tali organismi. L'onorevole Arrigoni, prendendo spunto poi dall'asserita disponibilità del governo egiziano a riprendere in carico i minori non accompagnati di quella nazionalità, ha chiesto di valutare l'opportunità di promuovere la revisione della legislazione nazionale in tal senso. In effetti la legislazione italiana sui minori non accompagnati risente del fatto che è stata in origine concepita per rispondere a casi sporadici di minori che siano in stato di abbandono, mentre oggi la realtà dei flussi migratori ci mette di fronte ad un problema che ha radici diverse e che ha inoltre assunto ben più ampie proporzioni. In sostanza la nostra legislazione sui minori prevedeva la figura del bambino abbandonato, del cosiddetto una volta trovatello o altre figure disperate, individuali e singole, mentre adesso quelle norme sono chiamate ad affrontare ben altra emergenza. In questa cornice si è di recente operato sul fronte della razionalizzazione delle competenze eliminando con il disegno di legge di stabilità per il 15, la frammentazione tra le due articolazioni statali. Lo si è fatto con il passaggio al Ministero e l'interno di tutti gli interventi in materia e con il conseguente trasferimento di un apposito fondo che era stato qualche anno fa istituito presso il Ministero del Lavoro. Credo che questo accorpamento rappresenti un vero passo in avanti tenuto conto del consolidato rapporto di collaborazione che il Viminale ha tradizionalmente con gli enti locali effettivi terminali sul territorio di questo delicatissimo problema. Concludendo, la risposta per il Senatore Arrigoni, desidero precisare che mai in Italia un minore straniero non accompagnato è stato accolto nei CIE, men che meno è stato mai rimpatriato verso un Paese di origine non sicuro. Non riteniamo ovviamente di doverlo fare ora. L'Onorevole Frusone si è soffermato sulle misure antiterroristiche che si stanno assumendo sul fronte dell'immigrazione in relazione alla problematica dei foreign fighters, nonché sul progetto di costituzione di squadre multinazionali ad hoc. La sicurezza delle nostre frontiere sul Mediterraneo è oggetto della massima attenzione da parte del nostro apparato antiterrorismo che a tal fine ha anche intensificato la collaborazione con le analoghe strutture degli altri Paesi europei. Lo sforzo investigativo è mirato ad evitare che estremisti islamici possano fare ingresso sul territorio nazionale o che organizzazioni terroristiche tentino di infiltrare militanti all'interno delle masse dei migranti con il fine ultimo di attestare proprie cellule o creare articolazioni nel territorio dell'Unione Europea. In tale contesto sono stati adottati mirati dispositivi di controllo anche presso i valichi di frontiera verosimilmente più esposti in ragione della loro posizione geografica al rischio che vi transitino i combattenti diretti verso aree di conflitto o di ritorno da queste ultime. Inoltre è stato implementato il ricorso alle potenzialità delle banche dati Schengen, il cosiddetto SIS II. Informo che è stata proprio l'Italia a presentare la proposta di costituire squadre multinazionali dedicate al contrasto del terrorismo e del fenomeno dei combattenti stranieri al fine di favorire la cooperazione operativa anche con il supporto di Europol. La proposta condivisa nell'ambito dell'incontro dell'AIA a cui ha fatto riferimento l'onorevole Frusone è stata valutata favorevolmente dai ministri di giustizia e affari interni nella riunione del Consiglio GAI dello scorso 9 ottobre ed è ora nella fase attuativa. Segnalo infine la collaborazione in atto tra gli apparati professionali delle forze di polizia e gli esperti delle agenzie di intelligence attivata da tempo nell'ambito del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo, il CASA, che a supporto delle attività operative nello specifico settore ha predisposto un disciplinare dedicato appunto alla problematica dei foreign fighters e al connesso fenomeno del reducismo. Sempre l'onorevole Frusone ha chiesto notizie su quali siano le proposte dell'Italia in merito al PNR, cioè al Passenger Name Record, iniziativa che ha incontrato in passato a livello europeo non poche resistenze in ragione delle implicazioni in materia di privacy. L'Italia ritiene che il Passenger Name Record europeo sia uno strumento di notevole efficacia nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata e per questo il suo utilizzo a fini investigativi è stato inserito proprio nel nostro programma di presidenza dell'Unione Europea di questo semestre. L'obiettivo che si intende raggiungere con tale strumento è quello di una più stretta cooperazione giudiziaria, ma non solo giudiziaria, anche di polizia, attraverso l'uso efficace dei dispositivi di segnalazione degli spostamenti in tutta l'Unione Europea, unitamente allo sviluppo di un sistema funzionale alle attività di monitoraggio. Attualmente è allo studio una direttiva che possa armonizzare le legislazioni nazionali sulla tematica al fine di rendere uniformi le norme e le procedure attraverso le quali gli Stati membri potranno obbligare i vettori aerei che operano da e verso i loro territori a comunicare i dati PNR per motivi squisitamente legati alla sicurezza. I reati per cui si applicherebbe sono quelli ricompresi nelle ipotesi di mandato di arresto europeo e reati di terrorismo. Quanto ai costi di attivazione al momento non esiste una stima precisa a livello nazionale, tenuto conto che la determinazione del fabbisogno resta subordinata all'effettiva configurazione del sistema che verrà delineato dalla direttiva e al suo conseguente recepimento. Allargando lo sguardo al principio politico sotteso e al tema politico sotteso a questa vicenda, noi anche nel corso delle ultime riunioni, anche informali, anche al G6, da ultimo a Parigi, abbiamo ribadito l'importanza del passenger name record e la necessità di assunzione di un'iniziativa forte della nuova commissione, del nuovo commissario in riferimento al nuovo Parlamento europeo. Perché la disputa tra due principi, quello della sicurezza o di due valori, più che due principi, due valori da tutelare, quello della sicurezza e quello della privacy, è un conflitto tipico di questa modernità, tipico di questo tempo e che nella legislatura precedente aveva visto il Parlamento europeo far pendere una sensibilità accentuata a favore del valore della privacy, della tutela, della riservatezza dei dati personali. Si tratta di ricerche e ritrovamento di punti di equilibrio tra valori contrapposti che non trovano un consolidato perpetuo, ma che si affrontano e che si determinano in un determinato momento e che hanno una loro essenza dinamica. In questo momento noi come Ministri dell'Interno, noi come Presidenza italiana abbiamo fatto un forte appello alla nuova legislatura, al nuovo Parlamento europeo, pur avendo ed io personalmente in altre battaglie ho dato priorità al valore della privacy, o abbiamo chiesto al nuovo Parlamento di valutare molto bene in questo momento il tema della sicurezza. Diceva il Presidente a proposito, me lo dico prima di concludere, a proposito della questione che riguarda il comando della operazione Tritone, il tema non riguarda e non riguarderà mai una competizione interna al nostro Paese perché noi siamo una squadra, la squadra si chiama Stato, la squadra si chiama Italia. Il baricentro di tutta l'operazione è Frontex e l'Europa e non l'Italia ed è a livello europeo che sono stabilite alcune regole anche in riferimento alla prevalenza dell'aspetto civile o militare della operazione. Quindi non è un'operazione italiana, è un'operazione Frontex. Per quello che ci riguarda il lavoro che ha svolto la Marina per noi è un lavoro straordinario del quale gli italiani di buona fede, di grande onestà intellettuale, quali sono nella stragrandissima maggioranza i nostri concittadini, per il quale lavoro hanno avuto modo di rendere grazie. Il merito della Marina è un merito straordinario e l'occasione mi è propizia per ringraziare anche tutte le altre forze dell'ordine che sono state impegnate in mare e anche specificamente la Guardia Costiera e il corpo delle Capitanerie di Porto che hanno fatto un lavoro straordinario. Quindi non c'è nessuna competizione al nostro interno e ribadiamo che si tratta di un'operazione europea, altrimenti se non affermassimo questo negheremmo di fatto tutte le premesse che ci hanno portato a queste conclusioni. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Ministro, saluto l'Onorevole Fautili, ci spiace moltissimo che non abbia potuto ascoltare gli utilissimi elementi dati dal Ministro. Salutiamo naturalmente tutti quelli che lo hanno accompagnato qui da noi, quindi il Dottor Bruno Frattasi, il suo capo dell'ufficio legislativo, Danila Subranni, la portavoce del Ministro, Felice Colombrino, capo ufficio stampa e Roberto Rametta, segretario particolare. Grazie e l'audizione è conclusa.